quindi vanessa ci presenta un pigiama verde della collezione donna lingerie a me piace tantissimo verde con del tulle ricamato inserito veramente molto raffinato siamo passati da un capo grintoso a un capo più elegante da casa diciamo ma è talmente bello che potresti aprire la porta con questo pigiama al corriere perfetto qui siamo già su una collezione più elegante a me piace moltissimo una maglina di viscosa quindi non è troppo pesante se avete una casa calda è perfetta queste prime sere in cui inizia a fare un po freschino secondo me ne parlavamo prima con vanessa dove abita lei c'è da freddo la mattina anche la sera quindi questo è l'ideale arrivi a casa dal lavoro ti fa una doccia ti mette un pigiamino così ti rilassa in tranquillità poi noi abbiamo abbinato anche la pantofola abbiamo abbinato questa pantofolina sapete che noi abbiamo tantissime pantofoline della ciocca in velluto questa io abbinato il bordeaux col verde trovo che sia un colore super però poi vi farò vedere che ci sono anche molti altri colori queste sono molto comode perché hanno l'antiscivolo sotto e all'interno sono imbottite e dietro c'è l'elastico quindi non non si perde quindi non si perde